Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Gino Cecchettin, nel culmine del suo straziante dolore per la perdita della figlia Giulia, condivide un messaggio di profonda verità, l'amore vero non umilia, non delude, non calpesta, non tradisce e non ferisce il cuore. L'amore vero non urla, non picchia, non uccide. Queste parole, pregnanti di significato, sono indirizzate a colui che ha perpetrato un atto così inumano. In questo momento di lutto, Gino manifesta il suo dolore e l'impossibilità di comprendere il motivo di questa tragedia insensata. Il messaggio trasmette il richiamo a una genuinità amorosa, contrastando l'orrore dell'atto commesso e sottolineando la necessità di affrontare la realtà della perdita con compassione e resilienza.